Ciao a tutti, sono Enula e sono qui per ringraziare tutti perché io mi sono trovata sempre bene. Ho abitato qui da molti anni, sono stata bene, tranquilla, siete delle persone straordinarie perché vi conosco tutti. Uno per uno è passato davanti a me, io conosco proprio tutti perché io abito proprio qui, davanti all'ingresso principale delle poste di Sant'Elpidio a Mare. Ho deciso di fare questo passo perché sono stufa, è molto tempo che sto qui, quindi sono sempre sullo stesso posto e ho deciso che non è giusto né per me né per voi rimanere qui. Quindi ho pensato di premiare la società civile, le persone che hanno delle idee e che si vogliono mettere in gioco per migliorare almeno questo scempio qui. Questa è la piazza antistante, le poste di un paese di 17.000 e passa abitanti, da 40 anni. Quindi non è che uno dice, oh, l'ha fatta da poco le poste, non ha avuto tempo di rifletterci, di progettare o altro. E quindi ho deciso di, insieme a chi si vuole mettere in gioco, di regalare 150 euro all'idea più bella. Il regolamento lo trovate tutti nel link YouTube dove io pubblicherò il video. Grazie a tutti, vi voglio tanto, tanto, tanto bene. Soprattutto all'amministrazione che non mi ha dato mai, mai, mai fastidio una volta. È bellissimo. Grazie a tutti.